Non è molto noto l'impatto che la combustione viene effettuata dai gas e i tigini, quindi sia che si tratti di alcol, che si tratti di chenosine, che si tratti di gasolio, che si tratti di benzina, non è necessario entrare a contatto con la parte liquida per avere le piamme, ma i vapori che si trovano nell'ambiente già creano la soluzione e capitano tante volte che le persone si uspionano appunto perché sono lineare in questa cosa, quindi teniamo ben presente questo e dobbiamo ricordarci che a Brucciare sono i visitati, quindi i vapori in maniera immune pigenta il mondo, all'��라zione qui si tratti di effettuare il viso, una l outra e un'esplor, che si può essere присcul Strength, che si tratti di quella quindi quassia di Equity, per essere un futuro che si tratti di tutti visto che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.